Allora entrando con un profilo alunno vado a vedere se un insegnante mi ha assegnato qualcosa, si vede sia nella schermata iniziale che un compito, andando sui lavori del corso ecco che trovo il mio compito da svolgere, quindi vado ad aprirlo e in qualità di alunno rispondo alle mie domande. Qua posso scegliere se farmi inviare una copia delle risposte in modo da vedere che cosa ho combinato e che mi rimangano in memoria, ovviamente in questo caso a noi non interessa, invio e a questo punto mi si apre questa finestra. Quindi il mio insegnante ha ricevuto la mia prova. Io posso visualizzare il punteggio, quindi capire dove ho sbagliato. Ok, sulle domande risposta aperta non è un errore ma sarà poi l'insegnante a definire quanto valutare queste risposte perché non è stata messa una chiave di risposta. Per quelle corrette invece con le domande risposta multipla chiaramente vengono automaticamente corrette dal sistema. Quindi ho visto che ho fatto due punti su 16, posso anche aprire il compito per riguardare come sono andato, quali sono le domande che penso di aver sbagliato. Grazie.